Poteva finire con ogni risultato e del resto cicognolese Federica Antonioli Stagno Lombardo era il vero big match di giornata. Alla fine la spuntano gli ospiti allenati da Elis per Domini che così mantengono il più uno sul Corona passato a Cavatigozzi. Al centro Fadigati la prima occasione è dello Stagno con Somenzi che di testa non riesce a risolvere una mischia in area. Al decimo il gol arriva, lancio da dietro, uscita così così del portiere, Mazzini tocca al centro forse subendo fallo, Dattilo appoggi in rete. La cicognolese reagisce, Spotti di testa ha due ghiotte chance dal cuore dell'area mentre Sommensari tenta il colpo a effetto senza fortuna poco dopo. Lo Stagno agisce in contropiede e Mazzini sotto rete fallisce clamorosamente il tap-in sul centro di Dattilo. Sempre di rimessa, Somenzi trova il varco ma non nella porta, stessa sorte per la Zuccati in anticipo di Sommensari per l'ultima occasione del primo tempo. Mazzini raddoppia inizio ripresa ma l'azione era già ferma per fuori gioco, mentre su una interessante punizione dal limite ancora Mazzini non è abbastanza cattivo. Lo Stagno insiste, poi però si sveglia la cicognolese. Magri prima non esce, poi riesce a spazzare su Spotti e Sommensari, mentre da corner Bosio alza troppo una palla golosa da centro area. Quando Almici, con una grande azione da destra, serve Sommensari, il più sembra fatto e invece il tocco della punta finisce altissimo. Spotti non trova la deviazione vincente e qualche voce che chiede il rigore si sente, ma le recriminazioni locali sono più che altro per i gol mancati. Cross di Benna e Bosio di testa non trova la necessaria forza, ma poco dopo è clamorosa la mischia nell'area dello Stagno senza esito alcuno. I locali protestano ancora per un fuorigioco di Spotti, ma quando gli ospiti ripartono fanno malissimo. Caruccio grazie a Bozzoni, con il tiro forse deviato, poi su assist da destra di Lazzarinetti, Sommensi perfeziona la volée del raddoppio. Non è finita, la cicognolese ha un ultimo sussulto. Principato serve Spotti, che stavolta non sbaglia, ma è troppo tardi per il rammarico di mister Morris Braga. I ragazzi oggi sono impegnati, purtroppo abbiamo sbagliato e nel calcio chi sbaglia paga. E' così, ci siamo stati bene in campo, abbiamo cercato di ribattere ogni loro ripartenza, ma abbiamo sbagliato, quindi sbagliando abbiamo perso. Soddisfatti invece del primo posto mantenuto, Elis per Domini dello Stagno. Quando giochi contro le squadre che hai dietro di te, danno il massimo per poter batterti, è andata bene, abbiamo fatto fatica, va bene così.